La paura e la fiducia di Mirko Ciavatti Qualco giorno fa un bambino ha chiesto a sua madre quando sarebbe tornato all'asilo. Siccome l'argomento non era stato più affrontato dal giorno in cui gli era stato detto che la scolina è chiusa perché adesso ci sono le vacanze, la mamma fu colta piuttosto di sorpresa. Non riuscì a dire altro, benché in tono volutamente ironico, che per la lentezza che ogni mattina metteva nel fare la colazione e si faceva vestire, non so mica se ti riporteremo. Non l'avesse mai fatto. Il figlio sfogò in un pianto adirotto al timore che fosse per causa sua che non poteva tornare all'asilo e solo quando si fu calmato riuscì a dirle tra un singhiozzo e l'altro che non l'avrebbe più fatta arrabbiare. Non è facile parlare con i figli del periodo che stiamo vivendo. Non è facile scegliere le parole giuste e trovare il modo più appropriato, ma dobbiamo farlo. È sempre preferibile provarci e magari correggere il tiro che abbandonarli ai possibili sensi di colpa o di chissà quali altri sentimenti angosciosi stiano provando ora. So benissimo che è molto impegnativo ciò che ci aspetta. D'altra parte l'impegno non è un aspetto proprio nuovo del percorso di genitori. Da è sempre ai nostri figli diamo impegno a qualcosa di noi. In qualità di madri e di padri, oltre ad amarli sin dall'inizio, diamo impegno ai nostri figli la nostra sensibilità, la nostra esperienza, i nostri principi guida, il nostro tempo, le nostre capacità di ascoltare, di pensare e di mantenere viva la fiducia. Beni preziosissimi in questo periodo emergenziale, garanzie del nostro prenderci cura di loro. Per dire potrebbe aggiungersi un secondo dilemma. Cosa dire? Raccontare la verità è la scelta più opportuna, non la più facile, soprattutto quando dobbiamo parlare o rispondere alle domande di bambini piccoli, per intenderci bambini che frequentano nidi e scuole dell'infanzia. Naturalmente si dovranno scegliere linguaggi e contenuti commisurati alla loro età, affinché le nostre parole possano essere comprese e, non di meno, sostenute sul piano emotivo e psicologico. È diverso parlare ad un bambino che va ancora all'asilo e ad un bambino dai 7-8 anni in su. Con un bambino piccolo non è fondamentale che ci si addentri su argomenti specifici del covid-19, cosa lo differenzia da un'influenza stagionale, perché non si può curare con gli antibiotici, le complicanze della malattia e così via, argomenti che possono essere trattati con bambini più grandi senza forzarli e ancor più con i figli adolescenti. Con i più piccoli si può fare appello ad un'esperienza concreta che hanno già vissuto, tipo ricordi quella volta che avevi la febbre, il mal di gola, tossivi, che hai preso l'influenza e sei stato a casa? Ecco, questa volta l'influenza è arrivata o è ritornata, tutta in una volta e farebbe ammalare molti bambini, magari anche i loro genitori, i nonni. Ti immagini tutti a letto? Poi diverse persone avranno bisogno di andare in ospedale per essere curate meglio. Allora il presidente ha deciso che è meglio chiudere per un po' le scuole e anche che è meglio non stare a gironzolare per le strade e i parchi, che magari ci prendiamo l'influenza. Te cosa dici? Possiamo affrontarla anche in termini più dialoganti, invitandoli a proseguire loro, aiutandoli ad esprimere le loro teorie ingenue sui motivi per cui devono stare a casa o non possono giocare come di consueto con i loro amici. E noi che li ascoltiamo possiamo confermare o integrare ciò che loro hanno già colto e immaginato. Ti ricordi l'ultima volta che hai avuto la febbre? Cos'è successo? Sei andato a scuola? No, vero? Come mai? E mettiamo fosse andato a scuola con la febbre, la tosse e il raffreddore. Cosa sarebbe successo ai tuoi amici? Da questo momento di dialogo si potrebbe poi passare a parlare dei comportamenti raccomandati dalle autorità statali, il presidente e sanitarie, il capo dei dottori. I bambini si sentono rassicurati dal sapere cosa devono e non devono fare. Non saranno sempre in grado di rispettarlo, lo sappiamo. Noi stessi facciamo fatica a tenere sotto controllo tutto quanto. Tuttavia non possiamo esimerci dall'essere chiari sulle regole di contrasto del contagio. Approfonderò questi punti più avanti. Quelli esposti sopra sono solo alcuni esempi concreti di come si potrebbe affrontare l'argomento. Non prendeteli come schemi da seguire pedissequamente. Sono solo delle proposte che vanno adattate alla vostra realtà familiare. Non c'è un modo che va bene per tutti. Ogni bambino è diverso e voi conoscete i vostri figli meglio di chiunque altro. Usate parole vostre, un tono pacato e mettetevi in posizione d'ascolto. Alcuni bambini si accontenteranno di pochi cenni, espressi con chiarezza e in modo sicuro, e torneranno a giocare come se non fossero poi così interessati. Altri, invece, esprimeranno una maggiore attenzione, curiosità, bisogno di sapere qualcosa in più e vi faranno domande. Non necessariamente dobbiamo rispondere al volo come se fossimo in un programma qui. Naturalmente è bene che le informazioni scientifiche fondamentali le si posseggano e con queste si possa offrire una risposta quanto più all'altezza della loro capacità di comprensione. Quando parlo di informazioni, naturalmente mi riferisco a quelle che possiamo trovare da fonti esperte, attendibili e aggiornate, come quelle reperibili da Ministero della Salute, Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, Epicentro, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarebbe da evitare la ricerca spasmodica di informazioni sui social o sulle chat e la morbosità con cui ci si getta su notizie non verificate e a volte neanche veritiere o di dubbia scientificità. Dobbiamo stare attenti a non diffondere oltre al virus anche ulteriori allarmismi, complottismi, catastrofismi che giocano in modo insidioso sull'equilibrio psicologico delle persone, in particolare dei più piccoli ma anche dei più anziani. Aiutiamoci anche su questo, sarà indicativo del nostro senso di responsabilità e della nostra partecipazione alla costruzione di una comunità solidale. Detto questo, ritornando ai nostri figli, aggiungo un altro fondamentale aspetto. I bambini, in prossimità di momenti di grande tensione, hanno soprattutto bisogno di una cosa. A poter appoggiarsi ad un adulto che ne sa più di loro e lo sappia rassicurare. Hanno bisogno di un adulto che non si lasci travolgere dagli eventi, ma che sappia assumere una sana preoccupazione responsabile. I bambini, che hanno vissuto guerre, terremoti, lutti gravissimi, ci dimostrano che hanno saputo riemergere senza traumi, anche da situazioni di stress emotivamente più intenso, perché hanno avuto accanto a sé un adulto che lui per primo le ha sapute gestire, mediare, bonificare, da toni disperati e sfiduciati. Per approfondire quanto accennato sopra, non dimentichiamoci dell'aiuto che ci può offrire la modalità che per antonomasia da sempre ha spiegato ai piccoli gli aspetti difficili della vita e della relazione col mondo, il linguaggio delle fiabe. Dobbiamo intenderci sul significato del concetto spiegare. Non tutti i bambini riescono a seguirci se il discorso si fa troppo razionale scientifico, benché dai 7-8 anni in su gli strumenti cognitivi per farlo si perfezionino sempre di più. Le fiabe, da sempre, sono state utilizzate dal genere umano, di ogni cultura e latitudine, per aiutare i propri piccoli a sperimentare e superare paure, pericoli, turbamenti, dolori, situazioni drammatiche. Suscitando in loro anche una comprensione molto profonda dei sentimenti e degli elementi in gioco attraverso un linguaggio semplice, un'immedesimazione con personaggi ben delineati, creando un contesto coinvolgente, un inizio ed una fine molto chiari e rassicuranti. L'Incipit, c'era una volta in un paese lontano, trasporta la storia in un tempo e un luogo lontani, un altrove che tutela i bambini da vissuti che potrebbero utilizzare in modo troppo ansiogeno. Mentre il finale, e vissero tutti felici e contenti, comunica loro che al termine di un percorso accidentato, tra disavventure e affanni, arriva l'atteso epilogo, l'uscita dalla brutta situazione. Il messaggio di fondo della fiaba è questo. Ce la farai, avrai sempre qualcuno accanto a te che ti aiuterà. Per i bambini è molto rassicurante scoprire che, nonostante le rinunce, lo sconforto di taluni momenti, le difficoltà delle prove a cui sei sottoposti, alla fine ce la si può fare e da quel momento ripartire per una nuova e più serena storia. Non è necessario che andiamo a rispolverare le fiabe dei fratelli Green o di Anderson. Ce ne sono un'infinità. Anche di moderne, tuttavia mi avviso la cosa più bella di tutte sarebbe costruirle in casa, fatte su misura per nostro figlio. Possono essere storie di evasione o storie che trattano argomenti complessi. Non c'è bisogno di essere dei provetti narratori, ma solo di disponibilità e stare al gioco. È un po' come cucinare, non possiamo pensare che ne siamo capaci, solo gli chef stellati. Rimango sul paragone e vi dico che per costruire una bella fiaba la ricetta è sempre la stessa. Ognuno, naturalmente, la personalizzerà secondo i propri gusti. C'è un protagonista buono, ma un po' ingenuo. È l'uno. Il due. C'è una situazione che è tranquilla, che da tranquilla si fa più ingarbugliata a causa di un evento improvviso. Una variante. Può essere la ricerca di un oggetto prezioso che è stato smarrito o rubato al protagonista. La presenza di un personaggio non proprio raccomandabile. Quattro. Quando le cose sembrano volgere al peggio, entra in scena un personaggio o un oggetto magico che aiuteranno in modo decisivo il protagonista. E finalmente, dopo una serie di prove difficili e rocambolesche, l'argomento l'agoniato traguardo. Il ristabilimento di una situazione prospera e felice. Cucinatela a fuoco lento sul fornello della vostra fantasia e servitela accompagnandola con il calore della vostra voce. Sarebbe molto bello se poi ve la scambiate tra genitori, esattamente come si fa con le migliori ricette. Ricordiamoci che il linguaggio della fiaba è simbolico. Parla più all'inconscio che alla razionalità. Non ha bisogno di logica o di pensiero ipotetico deduttivo e, proprio per questo, è da sempre una preziosa palestra in cui i piccoli hanno potuto allenare i loro muscoli emotivi, morali e sociali. Per un aiuto in più e per chi ha dimestichezza con gli acquisti online, in commercio ci sono alcuni giochi da tavolo che possono facilitare la costruzione di storie. Vi sono dei bambini che, una volta imparato come si fa, ci giocano anche da soli. Per i più piccoli c'è l'inventafavole, il Barbagianni editore. Con i bambini un po' più grandi, Storycubes, Asmodee. Iniziate con la versione arancione e, se ai vostri figli piace, successivamente potete ampliare il gioco con le altre. Poi, soprattutto dai preadolescenti in su, il fantastico Dixit, Asmodee. Anche qui esiste la versione base a cui si aggiungono altre varianti a tema. A proposito del raccontare storie, oggi si assiste ad un paradosso su cui vi invito a riflettere. Da una parte si osserva una tendenza a risparmiare, censurare o edulcorare gli scenari di cui parlano la maggior parte delle fiabe, perché possono turbare la serenità di un bambino o terrorizzarlo. Dall'altra, a volte in modo inconsapevole, li si lascia troppo esposti a dose massicce di stimoli, discorsi da grandi, informazioni mediatiche, che spesso si rivelano eccessive e ansiogeno persino per un adulto. Pensate un po' per un bambino. Questo non fa altro che rammentarci, specialmente in periodi come quello che stiamo vivendo, quanto sia importante che il genitore si ponga come una sorta di filtro fra il proprio figlio e la realtà, in modo tale da modulare e bonificare con parole a misura di bambino ciò che difficilmente potrebbe tollerare. Più piccoli sono, più hanno bisogno di essere protetti dall'esposizione alle notizie dei telegiornali, dei dibattiti televisivi, dai bollettini, dai discorsi e dalle conversazioni telefoniche allarmate di questi giorni. Non hanno ancora gli strumenti di elaborazione critica ed emotiva che cominciano a strutturare gli adolescenti e che dovrebbero possedere gli adulti. Le notizie di questi giorni potrebbero sovraccaricare alla mente di un bambino di stimoli che non riesce a digerire e invaderla di parole, immagini, toni allarmistici che non riuscirebbe da solo ad arginare. Ciò mi porta a dire che meno vedono telegiornali meglio è e che colunque cosa ci chiedano o che noi pensiamo sia giusto riferire deve essere stata precedentemente digerita e pensata dall'adulto. Tra l'altro un attento dosaggio del flusso mediatico ininterrotto di questi tempi farebbe sicuramente bene anche all'adulto, visto che dovremo andare avanti in questo clima ancora a lungo e che sarà importante durare anche sul piano nervoso. Con i più grandi è già possibile, a giuste dosi, guardare i notiziari insieme o sfogliare pagine di quotidiani, ma sempre con un'attenzione particolare all'attendibilità delle fonti e a ciò che serve per gestire la crisi, aprendo uno spazio di riflessione che consenta anche ai ragazzi di cogliere qualcosa di utile, di affinare la sensibilità nei confronti delle opportunità che la vita offre in qualunque momento, bello o brutto che sia. Può rimanere in dote ai nostri figli qualcosa di prezioso sul piano umano quando tutto questo sarà finito. Quindi parlare con i propri figli di ciò che sta accadendo, anche per spiegare loro come mai stanno a casa e devono rispettare certi comportamenti, è assolutamente da preferire a giustificazioni come quella del stiamo a casa perché ci sono le vacanze, o ancor peggio a stendere un velo di silenzio e far finta di niente. Sarà un silenzio rumoroso, focolaio esso stesso di sentimenti angosciosi nei quali possono annidarsi anzi ancor peggiori. Non è solo una questione di un giusto diritto, quello di sapere, ma è anche una risposta a ciò che sicuramente stanno percependo attorno a loro. Hanno colto bene che c'è stato un cambiamento repentino, anche se non tutti lo manifestano con domande e paure. Lo avvertono perché sono cambiate le abitudini, perché non si esce nonostante la giornata soleggiata, perché il clima in casa non è certo dei più rilassati. Oltretutto è inevitabile che abbiano sentito parole conosciute e sconosciute, ma accomunate dallo stesso tono preoccupato che le accompagnate. Virus, ospedale, situazione che sta scoppiando, chiudere tutto, mascherine, isolamento, morti, a casa tutti. Non lasciamoli solo con i loro dubbi e le loro fantasie. Il rischio è di lasciarli in balia della loro fervida immaginazione che può contribuire a colonizzare il loro mondo emotivo di mostri ancor più minacciosi di quanto possano incontrare nella realtà. Non dimentichiamo che i bambini, tanto più piccoli sono, quanto più sono sensibili, anzi sensitivi. Con le speciali antenne di cui sono dotati sentono, avvertono, colgono molto bene l'elettricità attorno a loro. Pertanto meglio parlare e mettere un po' di chiarezza piuttosto che lasciarli in una prolungata condizione di incertezza, confusione, inquietudine, aspettando che passi l'epidemia e il diluvio mediatico che la segue. La chiarezza, insieme alla scoperta di opportunità, può rassicurarli e tenerli impegnati in attività comunque utili alla loro crescita o anche semplicemente divertenti, ancor più se hanno accanto a sé adulti disponibili a mettersi in gioco. Chiarezza che dobbiamo esprimere anche nei confronti dei comportamenti raccomandati. Ci hanno ripetuto più e più volte quali sono le regole da adottare. Parliamoli con i figli e cerchiamo di essere i loro primi esempi virtuosi. Tra l'altro chissà che non acquisiscano meglio, anche per il futuro, l'importanza delle regole igieniche universalmente valide come quelle del lavaggio delle mani e dello schermarsi quando si tossisce e starnutisce. La rete è piena di questi decaloghi comportamentali, a volte anche in formato video. Con i bimbi è possibile spiegarlo con parole semplici, guardando insieme le figure che accompagnano le norme, mettendole in scena come se si facesse il gioco del teatro, narrandole attraverso una piccola storia che ci inventiamo. Con i bambini più grandi e naturalmente con gli adolescenti è possibile leggere e commentare insieme il decalogo, entrando più nel merito delle ragioni che stanno dietro alle regole igieniche, sanitarie e comportamentali che dobbiamo rispettare. Detto ciò, vorrei dire qualcosa sulla paura. Non è peccato aver paura. Non eviteremo di farci travolgere semplicemente non pensandoci o non facendola vedere. Non dite ai vostri bambini che non devono aver paura. Ancor di più, non ridicolizzateli, dicendogli Fifone, se la dovessero esprimere. A tal proposito, qualche giorno fa in televisione, su una delle reti nazionali, la brava conduttrice, alla fine di una lunga intervista, chiede al suo ospite, come si vince la paura? Mi ha fatto riflettere quel si vince, tant'è che mi sono perso anche la risposta. Ho pensato a quanto spesso la paura sia effettivamente associata all'idea di qualcosa da sconfiggere, alla stregua di un avversario da sgominare o di una malattia da curare. In realtà è più un'alleata che una nemica. La paura ha un significato eminentemente adattivo e dobbiamo stare attenti a non neutralizzare ciò che tenta di suggerirci. Ci sta predisponendo a rispondere al meglio nelle situazioni dove ci sentiamo minacciati, ma anche laddove dobbiamo realizzare qualcosa di importante e vogliamo riuscirci. La paura, più che vinta, va ascoltata, va colta come una ciotola accoglie l'acqua. La contiene e le dà forma, le dà dei confini e le dà un senso. Nel caso delle nostre attuali paure, ciò che si traduce nel riconsegnare loro il ruolo che le compete e che ci possa consentire di accettarle, comprenderle e di rispondere con dei comportamenti adeguati che salvano vite. Se ascolto la paura che mi dice che potrebbe accadermi qualcosa di male mentre mi appresto ad attraversare la strada, quello che mi serve è guardare attentamente a sinistra e a destra e attraversare solo se non passano veicoli. Questo è il significato più autentico della paura. Non va confusa con fobie, ossessioni, panico e paranoia, nella stessa misura che consumare un buon pasto ristoratore non va confuso con un'indigestione. Quindi, se proviamo noi stessi paura, non neghiamolo ai nostri figli, non c'è da vergognarsi. Dite loro che anche un adulto può avere paura e che grazie a questo non solo lo capiamo, ma sappiamo meglio anche cosa fare. Potremmo dire ai bimbi certo, anch'io ho un po' di paura. È come una farfallina nella pancia che mi consiglia come devo comportarmi. Io l'ascolto e mi sento più tranquillo perché mi sembra di aver fatto la cosa più giusta. Oppure, un po' di paura ce l'ho anch'io, sai? Non è la prima volta. Ti ricordi quando? Però è poi è finita bene, eh? I bambini saranno aiutati a gestirla nella misura in cui vedranno che noi per primi saremo in grado di accettarla e convertirla in atteggiamenti appropriati. Lo stesso concetto, non proprio le stesse parole ovviamente, vale anche per bambini più grandi. Il punto è essere molto pragmatici, sapere al momento quali comportamenti sono ritenuti più utili dalle autorità ufficiali e farli nostri. È molto più utile attrezzarsi rispetto alle scelte opportune piuttosto che farci logorare dall'ansia di non sapere abbastanza. Oltretutto l'attuale momento ci fa capire anche un'altra cosa, che la paura non deve essere contrastata con il coraggio. Il coraggio lasciamo le fantastici medici, infermieri e personali sanitario che da settimane sono in prima linea a salvare vite umane. Per tutti noi e i nostri figli la paura ci insegna ad essere prudenti, ad essere responsabili, a rispettare quello che gli esperti ci dicono di fare. Diamo delle buone testimonianze in tal senso. I nostri figli non hanno bisogno di esempi di spavalderia, a disprezzo del rischio, come a far vedere al virus chi è il più forte. Solitamente sono gli adolescenti che per ragioni di tutt'altro genere si lasciano prendere da un senso di onnipotenza e sfidano il pericolo. Lo fanno per esorcizzare paure e senso di inadeguatezza, dandosi a volte a esperienze estreme per dimostrare a se stessi e agli altri che sono più forti della paura, che non sono più dei bambini. I nostri figli hanno bisogno di adulti che non minimizzino né drammatizzino lo stato di crisi, che non cedano alla tentazione di far finta di niente, pensando che in questo modo i bambini non si accorgano di niente, ma neanche che si lasciano trasportare da atteggiamenti catastrofici, disperati o polemici. La paura si rifarà viva in molte occasioni nella vita dei nostri figli. Non possiamo insegnare loro ad annullarla, esorcizzarla o nasconderla. Possiamo però educarli a farci i conti, affinché non abbiano paura della paura, ma sappiano coglierne il messaggio più autentico. A questo proposito, una storia che racconto a volte i bambini e i ragazzini spaventati è quella di Reynold Messner, il noto alpinista e scrittore altoatesino. Una sera di diversi anni fa, tornando a casa dal lavoro, ascoltai parte di un'intervista a lui rivolta, laddove la giornalista gli chiese a cosa dovesse l'aver realizzato imprese che pochi altri avevano compiuto, ricordando che era stato anche il primo uomo a scalare tutte 14 le vette che superano gli 8000 metri. Messner rispose senza alcun tentennamento, devo ringraziare la mia paura. La giornalista espressa il suo stupore. Paura? Proprio lui che è andato fin lassù, a volte anche in solitaria, a volte anche senza bombole di ossigeno, mi prende in giro? E lui cominciò a sciorinare un lungo elenco di situazioni di cui provo a riassumerne alcune. Se non avessi avuto paura di infortuni, di crisi di fame, di un principio di congelamento, di difficoltà respiratorie, di precipitare in un crepaccio, di farmi travolgere da valanghe o cadute di seracchie e così via, se non avessi avuto paura di tutte queste possibili situazioni non mi sarei mai preparato ad affrontarle. E aggiungo io, non sarebbe neanche stato in radio a raccontarle. Ecco, le parole di Messner credo che siano quanto mai attuali e chiarificatrici. La paura come fedele alleata nell'affrontare al meglio le asperità non solo della montagna ma della vita stessa. Non permettiamo quindi che la paura del contagio ci induca come in automatico a reazioni di panico e smarrimento. Facciamo invece che ci si possa riorganizzare e riprendere possesso delle nostre giornate e socializziamo all'interno della comunità in cui viviamo gli aspetti più costruttivi e appaganti che riusciamo a realizzare. Naturalmente non si può non tener conto che per il momento dovrà avvenire alla luce delle scelte precauzionali e preventive che siamo chiamati a rispettare, gli unici mezzi che per il momento possediamo per contrastare il Covid-19. Però non subiamoli in termini mobilistici. Cerchiamo invece di sperimentare e avviare dei circoli virtuosi. Aiuteremo i nostri figli a fare altrettanto e soprattutto vedranno che piano piano lo stravolgimento delle routine quotidiane verrà sostituito da nuove ritualità e da tante altre cose interessanti che prima si facevano poco o non si facevano affatto. So di tanti genitori, anche di papà, che adesso non lavorano, che stanno tentando di allestire in casa spazi per disegnare, colorare, ritagliare e incollare. Chi dipinge, chi fa collage, chi gioca con le costruzioni, chi assembla puzzle, chi canta e balla. Le cose si stanno trasformando in piccoli atelier di gioco, disegno, canto, ballo, lettura. Non c'è cosa migliore che creare le condizioni che consentono ai bambini di esprimere il loro mondo interno. In tal modo avranno la possibilità di alleggerire e elaborare le loro piccole e grandi tensioni. Questo di solito vale anche per un adulto. A proposito di lettura, al di là delle indicazioni date sulle fiabe, chi volesse affrontare la questione della paura, Julia Donaldson ha illustrato, da Axel Scheffler, che vi offrirà l'occasione di parlare con i bambini dell'importanza della gentilezza, dell'aiuto reciproco, della solidarietà, dell'impegnarsi tutti insieme in uno sforzo comune di fronte alle difficoltà. Da quelle più piccole, qui rappresentate dal vento che disperde nelle cose e della scopa che si spezza, e quelle più grandi, il minaccioso dragone affamato. Poi, sempre dalla felice coppia, da Nelson Scheffler, come un consigliere pesciolino, cantastoria birichino, che sottolinea in un modo unico l'importanza della narrazione, del raccontarsi dell'inventare storie come mezzo per non perdersi anche nei momenti più difficili. Lo considero un vero capolavoro della letteratura per l'infanzia. A dire il vero, nel mentre scrivo, mi accorgo che sarebbero tutte da consigliare le loro opere. La chiocciolina e la balena, Zog, Grufalo, Bastoncino in primis. Perché sono belle storie, perché sono per lo più dei viaggi, come lo è crescere, per la rima che rende la lettura ancora più fluente, per il confronto che suscitano, per come toccano temi importanti in modo lieve. Ma vanno bene anche le storie arcinote, come ad esempio la fiaba dei tre porcellini, dove si parla dei due fratellini che avevano costruito una casa di paglia e assi di legno, entrambe abbattute dal lupo, che si rifugiano dal terzo fratello, ma le versioni possono essere diverse, che invece aveva preso più sul serio il pericolo ed era stato capace di proteggersi, costruendosi una casa di mattoni. Questi sono solo semplici spunti per ribadire quanto sia importante raccontare storie ai bambini, animarle con la voce, metterle in gioco, disegnarle, teatralizzarle, non solo per alleviare delle tensioni, ma anche per permettere ai bambini di elaborare meglio ciò che stanno vivendo. Quando percepiranno che qualunque emozione può essere riconosciuta, raccontata e condivisa, si sentiranno pure legittimati a viverle e a parlarne, si sentiranno meno strani e meno soli, più forti. Un'ultima considerazione, non possiamo andare al parco? Vorrei condividere con voi una piccola esperienza personale. Insieme a mia figlia, quando era piccola e non poteva uscire, ricordo purtroppo un lungo periodo di questo tipo che, per certi versi, assomiglia per noi a quello attuale. Abbiamo costruito in casa un vero e proprio percorso vita, esattamente come quello di taluni parchi, naturalmente senza far sapere nulla alla mamma, che sapevamo non avrebbe consentito, ma, si sa, noi padri siamo più incoscienti. Era un piccolo momento di spensieratezza e complicità fra di noi. Ci spostavamo in soggiorno, immaginavamo che i divani diventassero altissime montagne da scavalcare, toglievamo le sedute e le ponevamo dall'altra parte, un po' per protezione e un po' per simulare le rocce, dalle quali ridiscendere e poi correre verso il tunnel, che era formato dalle sedie buone del soggiorno, poste una di fianco all'altra e ricoperte da un bel lenzuolo blu scuro, perché tanto più buio e tenebroso fosse stato il tunnel, quanti più brividi avremmo provato nella traversala strisciando. Una volta rialzatoci da terra, c'era ad affrontare l'infinita ginkana della giungla, fra le bottiglie d'acqua verdi di una nota marca che finisce per Eto, stando attentissimi a non toccare, perché urticanti e velenose, fino ad arrivare alle fiammigerate stagno del piragna, il tappeto grande fra i divani. Va da sé che non ci si poteva finire dentro, quindi dovevamo stare molto attenti ad attraversarlo mettendo i piedi sui cuscini buoni, anche questi, se lo sa la mamma, che facevano da sassi affioranti. Finché non arrivavamo esausti ma salvi, non sempre a dire il vero, alla gognata meta, la poltrona molto buona del soggiorno, tappezzata in damascato marocchino. E la mamma, la mamma ha scoperto i nostri pomeriggi trasgressivi solo molto tempo dopo e questo ha reso più mite e affettuose il suo rimprovero. Oggi non è rimasto niente dell'arreddamento buono di allora, in cambio c'è rimasto l'indelebile ricordo di tanti momenti divertenti e motivanti. Chiudo augurandovi la stessa cosa. Siate riflessivi, siate creativi, siate fiduciosi. Questo periodo passerà, però facciamo anche attenzione a ciò che rimarrà nei nostri figli. Facciamo in modo che rimangano anche dei bei momenti e tutto ciò che pensiamo sia loro più utile da portarsi in dote nel loro percorso di crescita. Allora i bambini avranno imparato e noi insieme a loro che anche i periodi più difficili possono essere delle prove che risvegliano in noi qualità assopite, valori che forse stavamo trascurando e risorse che non pensavamo di possedere. Delle prove che, proprio perché impegnative, li faranno crescere e li metteranno nella condizione di costruire un mondo migliore. A tutti i bambini che si chiedono come mai non stiamo andando a scuola. A tutti i bambini che si chiedono cosa stia succedendo. A tutti i bambini a cui testimoniamo di avere fiducia e non avere paura della paura. Grazie. 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 Grazie.